insomma mi diceva eravate interessati ma che fa scusi non sono il santo padre allora mi scusi no le dicevo voi avete già la struttura eccolo qua il vecchio convento potremmo trasformarlo in un modernissimo ospedale radiamo al suolo l'abstile ad esempio e facciamo un bel ascensore di sestallo fine mi scusi è anche una bella idea però io nel convento sette povere sorelle che hanno fatto voto di silenzio sono lì da sempre capisce meglio chita ci acconsente no santo padre direi sono santo padre andiamo madre che ha dottore che se va a struttura vota daje daje vada sorella vada 3 4 mettete davanti che c'è le pezze del carcetto dietro venga così 5 6 molto bene i bagagli vanno direi veloci e che fa questa cosa fa sorella lo sente quello che diciamo la preghiera la finisce nel pulmino andiamo ma che fai pazzita ma la preghiera sorella